Sono in provincia di Lecco, a Osnago, qua con il Lorenzo Gentile. Alle mie spalle stanno trinciando il frumento Faunus che è stato seminato in autunno. Lorenzo, il dottor Gentile, ha seguito le operazioni sia di semina che di coltivazione, quindi adesso stiamo seguendo anche le operazioni di trinciatura. Che frumento è questo Lorenzo e come lo stiamo trattando? Frumento tenero, alternativo, novità del Tecnozoo di quest'anno. Epoca di trinciatura perfetta, fine maturazione latte e inizio ceroso. Lo stiamo trattando con degli inoculi, il nostro Cofasil Duo, che contiene due ceppi di Lato Bacillus Plantarum e uno di Bucneri, per andare ad acidificare il più velocemente possibile la massa, quindi migliorare i tempi e la stabilità fermentativa e soprattutto limitare anche lo sviluppo di microrganismi nocivi. Il prodotto ha grandi aspettative anche dal punto di vista produttivo, però come vedete la taglia è importante, un metro e venti, sanissimo, ottima tenuta nel verde, molto bene anche l'accessimento, quindi direi che ci dobbiamo ritenere super soddisfatti. Benissimo, quindi ad oggi le condizioni sono ottimali per la trinciatura, vediamo poi all'apertura della trincea come sarà il prodotto. Comunque non manca niente, condizione ottimale di trinciatura, seguita in maniera eccellente dal dottor Gentile e l'abbiamo anche trattato con i batteri, con gli inoculi della Atcon e il Cofasil Duo, quindi i risultati saranno sicuramente ottimi. Complimenti Lorenzo.